Ridotti al lumicino le speranze di riunire l'intera coalizione Forza Italia, Udc e Civici dal canto loro stanno per chiudere la partita sul candidato. Scendono le quotazioni per Enzo Paolillo che in un primo momento pare avesse convinto il commissario di Forza Italia Marzia Ferraioli ma non gli altri alleati. La quadra potrebbe essere chiusa sul nome di Lello De Prisco con una coalizione aperta al dialogo con altre forze di centrodestra in primis con il gruppo dei cosiddetti ex bottoniani e o in alternativa a quella costola di Forza Italia che fa capo agli ex amministratori Pisacane e Sicignano. La federazione civica dal canto suo abbandonata proprio da De Prisco e dal gruppo dell'ex assessore Carmela Pisani sta per ufficializzare la candidatura desiderio sostenuta anche da una parte del centro-sinistra che si identifiche in Antonio Donato e Rita Greco nonché in Luna Ferraioli e Michele Marciano. Candidatura annunciata ed affidata ai social per il gruppo di ex amministratori e dirigenti delle partecipate di Palazzo San Carlo che rispondono all'ex sindaco facente funzioni Anna Rosa Sessa e che vorrebbero in campo il direttore dell'azienda speciale Pagani Ambiente.